Ormai ci siamo, mancano pochi giorni al prossimo evento della Ring of Honor Death Before Dishonor. Abbiamo raccontato qualche giorno fa quello che è stato il primo evento, quelli che sono stati i quattro incontri principali dello show. Beh, oggi cominciamo a vedere quali sono i primi tre incontri annunciati e poi cominciamo anche a dare così un'occhiata a quella che potrebbe essere, insomma, la card e il sapore che ci dobbiamo aspettare il prossimo 23 luglio. Benvenuti quindi a questo nuovo video, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast e oggi vi voglio parlare di Ring of Honor, di ciò che già sappiamo e di ciò che potrebbe esserci proprio a Death Before Dishonor. E che cosa sappiamo? Beh, la prima faida, quella un po' più lunga, costruita probabilmente in tanto, c'è chi dice troppo tempo, io invece sono abbastanza convinto che sia stata gestita piuttosto bene, sia per non dare troppo spazio alla Ring of Honor, sia per non dargliene troppo poco, no? Ed è quella per il titolo TV, che in questo momento detiene Samojo e che potrebbe essere conquistato nel prossimo evento da Jay Little, il quale si è portato Sat Nam Sing, il quale ha preso Sonjay Dat e ha cominciato questa faida importante contro quello che è stato un tempo il suo mentor Samojo e che ora invece vuole andarci contro per andarsi a conquistare una cintura che in realtà gli manca. Perché comunque Jay Little da quando è arrivato ha cercato prima di fare il buono, poi ha cercato di capire come sistemare le cose, alla fine è riuscito ad avere questo guizzo. Quando è tornato alla Ring of Honor probabilmente gli è venuto in mente che potrebbe essere lui a provare a dominare un pochino la scena, si è portato un paio di amici, insomma la cosa l'ha resa abbastanza interessante per un personaggio che comunque ha fatto già tantissimo. Ecco io poi mi auguro che nelle prossime FAI DJ Little, così anche Samojo in realtà, vengano avvicinati poi a ragazzi più giovani che hanno bisogno di fare più esperienza perché queste esperienze ne hanno da vendere. Un altro match che è stato sicuramente annunciato è quello del Pure Title tra Willer Yuta e Daniel Garcia. I due si conoscono molto bene, hanno già lottato insieme uno contro l'altro nelle indie, hanno avuto da dire anche per il Blood and Guts e nel Blood and Guts. Niente di più bello che vedere uno show dedicato a quello che è il più strano, il più particolare, il più affascinante forse, dei titoli della Ring of Honor, il Pure Title, di cui faremo un video per spiegarne la storia e bene le regole, in modo tale che così possa essere un po' più semplice arrivare a capire quello che potrebbe significare un titolo di questo tipo, che purtroppo era stato, diciamo, fatto funzionare per poco tempo, poi lasciato a casa, poi riesumato, beh, forse, grazie anche alla necessità di variare quella che può essere la proposta, un titolo di questo tipo potrebbe essere la scelta più azzeccata di tutte. L'altro match, recentemente annunciato di cui per certi versi siamo molto contenti, è il capitolo secondo tra FTR e Brisco. Allora, partiamo da un presupposto. Non è stato costruito nulla intorno ai titoli tag della Ring of Honor, nel senso che ce li hanno gli FTR, ma gli FTR sono stati impegnati in un po' di cose, tra cui anche l'andare a prendersi a Forbidden Door i titoli della New Japan. A questo punto, dato che non è ancora creato niente, va bene fare un capitolo secondo di un match che comunque ha avuto un finale particolare, cioè il post-match ovviamente, quando sono arrivati anche i bugs e quant'altro. Se devo essere onesto, dato che è molto difficile replicare la bellezza che sono riusciti a tirar fuori la volta precedente, forse un pochino io mi aspetto che i bugs arrivino prima o addirittura che si intrufolino all'interno di questo match. Capiremo, però io credo che FTR e i young bugs abbiano ancora delle cose da dare uno contro l'altro, e non credo che le abbiano così avanti nel tempo. Ci siamo, ci siamo, e magari appunto vedere i bugs che in qualche modo interagiscono, o che appunto ne fanno parte in questo match, potrebbe essere una chiave di lettura, una spiegazione plausibile per quella che è la situazione attuale dei titoli, ma anche di quello che è successo subito dopo il match contro Ibrisco, la prima volta Supercard of Honor. Sono curioso, dico la verità, sono curioso. Per ora questi sono i tre match annunciati, però vogliamo spingerci un po' oltre, vedere quelle che potrebbero essere alcune delle possibilità, e qualcuna delle possibilità chiederla anche a voi. Ovviamente voi siete parte integrante come community di questo progetto, e molte cose che succedono all'interno di questo canale e anche di alcuni video extra come questi, che esolano un po' dal semplice podcast, vengono anche grazie alle vostre idee e grazie al vostro supporto. E a proposito di supporto, se volete, potete cliccare sul tasto abbonati e guardare le tre opzioni di abbonamento, capire se c'è un modo che secondo voi è giusto per voi per darci una mano, anche a superare economicamente alcuni piccoli scogli che possono esserci ovviamente in un progetto così grande che richiede così tanto tempo, così tante energie e uno sforzo così grande. Alla peggio, se proprio non riuscite a darsi una mano economicamente, che è una cosa che posso capire e ci mancherebbe altro, un like a questo video sarebbe davvero tanto tanto gradito e qualche commento per aiutare così a stuzzicare l'algoritmo. Dicevo che ci sarebbero dei match interessanti all'orizzonte, io posso andare a immaginare che un match prossimo al suo svolgimento potrebbe essere quello per il titolo femminile tra Mercedes Martinez e Serena Dib, le quali hanno cominciato ad avere alterchi, ma anche una situazione di coppia. Beh, si potrebbe pensare di tirare fuori un match di questo tipo, un match di questo calibro, che è comunque uno scontro da match titolato, ok? Che però non è che puoi fare in All Elite. E allora la Ring of Honor diventa il posto giusto per fare questo tipo di scontro. Credo possa essere davvero la scelta ideale per il mondo femminile. E mi auguro, dato che siamo qua in tema femminile, che ci mettano dentro questa volta un match tag e che una delle protagoniste, le altre tre, possiamo andarle a prendere tutte nelle federazioni dipendenti. Non c'è assolutamente problema, ma mi piacerebbe che in questo 2 contro 2 almeno una di queste persone fosse una riconferma di Willow Nightingale, che io trovo a essere una ragazza straordinaria, con tantissimo talento, più che per le azioni in Ring, che va bene, le fa abbastanza bene, però, insomma, non stiamo parlando di una macchina da guerra, no? Però il tipo di personaggio, le caratteristiche, l'attitudine, è da tenere d'occhio e non è da farsi soffiare Willow Nightingale da nessuna federazione. Occhio perché ci potrebbero essere delle belle sorprese, e chissà, magari queste belle sorprese potrebbero essere, non dico dei nomi altissonanti, che magari sono usciti dalla WWE o sono usciti da Impact, ma magari anche qualche ragazza che viene dalle federazioni indipendenti, che magari abbiamo visto in un certo modo all'interno di Dark e Dark Elevation, e invece possono fare qualcosa. Io lo dico, la butto lì. Mi piacerebbe anche vedere Emi Sakura all'interno di questo mondo della Ring of Honor. Potrebbe in realtà avere quei minuti in più e quello spazio necessario a farsi vedere e diventare magari per il prossimo futuro, magari per il prossimo evento, che verosimilmente sarà prima della fine dell'anno anche una contendente per il titolo principale della federazione. Non dico vincerlo, ma mandare una Emi Sakura per il titolo è sempre una cosa gradita, almeno da questa parte dello schermo. Dall'altra parte, un altro match che penso si possa andare a creare, quello tra Jonathan Gresham e Brian Cage per il titolo del mondo, ovviamente. Ci sono anche Gates of Agony, la coppia che Tully Blanchard ha preso sotto la sua alla protettrice, insieme anche al buon Brian Cage. Beh, sicuramente loro tre saranno in qualche modo impiegati. Mi piacerebbe vedere però Brian Cage contro Jonathan Gresham e perché no? Magari vedere Brian Cage che vince il titolo. Lo preferisco Jonathan Gresham e soprattutto penso che sarebbe una cosa anche piuttosto interessante per provare a far entrare Jonathan Gresham un po' di più all'interno del mondo dell'elite, dove potrebbe servire. Mentre invece, dato che Brian Cage è più confinato al mondo Ring of Honor, non sarebbe male come portabandiera, anche soltanto per un primo pezzo di questo percorso, ok? Però devo ammettere che non mi dispiacerebbe vedere Brian Cage alzare quella cintura al cielo. Altre cose che potrebbero succedere, beh, vi do due suggestioni, ma ho bisogno del vostro aiuto perché sarete voi a dirmi contro chi potrebbero andare. Potrebbe esserci un ritorno storico di Claudio Castagnoli. E quindi, perché no, Claudio Castagnoli. Contro chi? Contro chi lo vorreste mandare? Ditemelo voi nei commenti, ma ditemi anche se vi potrebbe piacere magari una riunione con Chris Hero e mandarli in coppia contro una coppia magari della All Elite. Contro chi? E invece, lo volete Takeshita? Perché io lo voglio Takeshita. Sarebbe interessante, prima o poi di un altro periodo che dovrà fare in Giappone, tra Professor Peter Pan della DDT e anche il suo decimo anniversario da professionista, che sarà qualche giorno dopo, sarà i primi di settembre, se non sbaglio il 10. Beh, sostanzialmente anche Takeshita sarebbe un nome interessante e mi piacerebbe vederlo all'interno dello show. Magari chissà, proprio un Claudio Castagnoli contro un conosco Takeshita. Anche se vorrei vederlo vincere un po' questo Takeshita, e non so voi. Sto registrando questo video prima dell'uscita di Rampage, quindi, qualora ci fossero già stati dei nuovi annunci per la card, beh, non prendetevela con il sottoscritto. Anch'io, nel weekend, tendo a non lavorare, quindi sto cercando di registrare i contenuti che escono nel weekend, prima del weekend. E quindi prima di Rampage. E visto che non sono andato a leggere i tapings, credo che sia corretto da parte mia avvisarvi che potrebbero essere cambiate le cose da quando sto registrando a quando lo vedrete. Bene, queste sono state le mie suggestioni, fatemi sapere nei commenti che cosa vorreste vedere per il prossimo Death Before Dishonored. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento, come sempre. Alla prossima!